Il comune di Montesano sulla Marcellana ha ottenuto tre finanziamenti progettuali per interventi contro il rischio idroziologico per un importo complessivo di oltre 521 mila euro. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Rinaldi spiegando che le progettazioni interesseranno i dissesti in località Carsata, in località Lagostriello e la messa in sicurezza della Casa Comunale. Si tratta dunque di un importante contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idroziologico. Il primo cittadino ha ricordato che sotto il coordinamento della comunità montana Vallo di Diano il comune di Montesano ha anche ottenuto un finanziamento per la progettazione del dissesto del Vallone Fiego. Un altro importantissimo finanziamento inoltre l'amministrazione Rinaldi lo ha ottenuto sempre per lavori in materia di dissesto insieme al comune di Padula in forma associata per parte del Vallone Caffari a confine tra i due comuni. L'istanza in forma associata più volte premiata, affermato il primo cittadino, ci ha consentito di essere tra i soli due progetti finanziati in provincia di Salerno dal Ministero. Infine il sindaco Rinaldi ha annunciato che il comune ha appena aderito al bando per la progettazione contro il dissesto per l'anno 2021 e che sta definendo il piano annuale di manutenzione ordinaria anche in materia di sicurezza idrogeologica da consegnare alla comunità montana Vallo di Diano.